Signore e signori buonasera e ben ritrovati con il TG Viola di Maurizio Becci in questo giovedì 1 di marzo, quindi siamo nel mese di marzo, siamo entrati oggi e quindi siamo molto contenti che ci avviciniamo alla primavera. In questo TG Viola, un caro saluto a tutti, devo iniziare con la nazionale italiana di calcio. Dopo la sconfitta di ieri 1-0 contro gli Stati Uniti a Genova della nazionale italiana di Prandelli, Prandelli oggi in sala stampa, giustamente a parere mio, è letteralmente esploso contro i critici, contro la stampa e contro chi critica la nazionale italiana. Ha personalmente detto che tutti pensano ai fatti del loro club durante la settimana, anche quando gioca la nazionale non ne parlano, quasi nessuno parla della nazionale italiana. Poi, appena gioca la nazionale e perde una partita, il giorno dopo tutti parlano della nazionale pronta a criticarla. Dice io non ci sto a questo gioco, dice sono stanco di queste cose, la nazionale va sostenuta. E ha perfettamente ragione a mio avviso, perché tutti se ne fregano quando gioca la nazionale, tutti se ne fregano onestamente, ha ragione, e poi quando arrivano le brutte figure tutti a ridere, a prendere in giro, a criticare l'allenatore. Vabbè, prima vogliano che non giocano i loro giocatori, perché si devono riposare in vista del campionato, per la nazionale non è importante, capito? Se si fa le figure di DM agli europei o ai mondiali, va bene, basta che il Milan vinca la Coppa Campione, o lo Scudetto, e la Juventus magari vinca la Coppa Italia, per dire. Ragazzi, siamo seri. Prandelli, io do ragione a te, grande mister, grande mister, hai perfettamente ragione. Per quanto, passando appunto alle cose della Fiorentina, domenica Fiorentina-Cesena. Ebbene sì, sembra che una parte o tutta la curva Fiesole è pronta a incitare la squadra, però dice ci sarà anche contestazioni. Cioè, quello che vorrebbero fare i tifosi è contestare la squadra in alcuni momenti, ma anche sostenerla per tutti i 90 minuti. Quindi ci sarà un po' di tensione allo stadio, i tifosi sono giustamente delusi sia dai risultati, ovviamente, sia dai giocatori, che non rendono come dovrebbero rendere, alcuni appunto non sono poco professionisti, è vero, e sono arrabbiatissimi, come il sottoscritto, arrabbiatissimi con la società della valle, che non si sa più che fine abbia fatto. Ragazzi, non rilascia più una dichiarazione fiduciosa. Tutte le volte che viene intervistato, le poche volte che viene intervistato, rilascia sempre le stesse dichiarazioni, sembra un libro stampato, e i dirigenti che sono a Firenze per colmare la sua assenza durante la settimana, anche loro mi sembrano dei burattini senza offesa per nessuno. Perché Cognini farà bene il suo lavoro, ma quando parla a un microfono sarebbe meglio che appunto parlasse a gesti, che non apra la bocca, perché insomma, vabbè, lasciamo fare. Per quanto riguarda Corvino, sempre quella faccia triste c'ha ultimamente, sempre sofferto, sembra una persona in sofferenza, per spillargli una parola di bocca fa tutte quelle smorfie di sofferenza, vabbè, e poi, vabbè, di Teotino e Guerini non vorrei parlare, perché Teotino non è nemmeno, non ci tiene nemmeno alla Fiorentina, cioè è sotto contratto con la Fiorentina, ma lui è un grande tifoso, se non sbaglio, o della Juve o della Roma, non mi ricordo, quindi cosa vuoi che rilasci dichiarazioni? Vabbè, non conta niente, ovviamente. E l'ultimo Guerini dice, come le ultime dichiarazioni, dice che i tifosi ci devono stare vicini, perché noi non siamo mai vicini alla squadra, i giocatori devono dare di più, non è l'ultima spiaggia col Cesena, è una partita come tutte le altre, quella è una partita fondamentale, caro Guerini, ti hai giocato a calcio, è inutile che difendi la proprietà perché ti stacca l'assegno ogni mese, cioè è una partita che è diventato uno spareggio per la salvezza, poteva essere una partita per guadagnare tre punti magari per l'Europa League o per una classifica tranquilla, invece è diventata una spareggio salvezza, ecco quello che è, quindi io sono molto in disaccordo con questi personaggi della società che ovviamente difendono la proprietà perché sono stipendiati dalla proprietà, però prendano a volte, mi sembra, in giro noi tifosi e quindi io non li ascolto nemmeno quando leggo solo la prima riga dell'intervista, poi vedo che sono sempre le solite cavolate che dicono, perché non sanno, come un libro, come un disco registrato, no? Sempre le stesse cose, è la stessa cosa, è come un disco che metti sempre replay, 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 dicano sempre le stesse cose e siamo sinceramente stufi di questa situazione. Poi i giocatori in campo ci mettono del suo perché un Vargas che non sta rendendo come dovrebbe perché i primi due anni a Firenze ha fatto veramente cose incredibili, poi c'è Montolivo in scadenza di contratto che se ne andrà a giugno, quindi che stimoli potrebbe avere? Boh, non si sa. C'è gente come Felipe Marchionni che sono in tribuna da due anni, hanno fatto pochi spezzoni di partita, cinque minuti forse, e cosa vogliamo, cosa vogliamo che... insomma, vabbè. In chiusura del TG Viola, che è stato un po' polemico come sempre in questi casi, vi devo dire che la Fiorentina prima di tutto andrà in ritiro da domani fino a domenica, ritiro pre-partita per preparare al meglio Fiorentina Cesena. Brevemente, secondo me i ritiri non servono, quindi farebbero meglio a lasciare i giocatori liberi senza andare in ritiro, tanto questi giocatori hanno dimostrato che anche quando vanno in ritiro non risolvano le situazioni, quindi, vabbè, lasciamo fare. E per quanto riguarda, vorrei dirvi una dichiarazione di De Laurentiis che risponde a Tabarez. Tabarez aveva suggerito, in un'intervista, a Cavani di andare in Inghilterra o in Spagna per ottenere e vincere le cose, le coppe, i vari campionati. De Laurentiis ha detto seccamente Tabarez pensi alla sua nazionale, si impicci degli affari suoi, Cavani è un giocatore del Napoli e vincerà con il Napoli. Un po', se pensate, mi ricorda la vicenda con Savicevic su Jovetic, che suggeriva a Jovetic di andare via da Firenze perché non avrebbe vinto niente, invece a scapito di altre formazioni più forti, quindi, insomma, questa gente dovrebbe stare zitta. Io sono d'accordo con De Laurentiis in questo caso, quindi ognuno faccia il suo mestiere, stia zitto, non consigli niente, perché soprattutto a giocatori sotto contratto pluriennali per una società, cosa vai a dire queste dichiarazioni? Impicciatevi veramente degli affari vostri. Il TG Viola per stasera è finito, un grazie a tutti di avermi seguito, un bacione a Firenze, bye! Grazie a tutti!